Cari fan dello sport, benvenuti sul top sport news. Oggi abbiamo una notizia che riguarda il Napoli e una figura di grande rilievo nel panorama calcistico. Rimanete fino alla fine per scoprire tutti i particolari di questa intrigante notizia. Ma prima di entrare nei dettagli, assicuratevi di iscrivervi al nostro canale per rimanere sempre aggiornati sulle ultime notizie sportive. E non dimenticate di lasciare un like se questa notizia vi è piaciuta. Il Napoli viene osservato da una grandissimo calciatore, Fabio Cannavaro. Il campione del mondo nel 2006 si è espresso in esclusiva ai microfoni di tvplay.it e le sue parole non possono passare inosservate. Cannavaro si è soffermato sulla difficile situazione del Napoli, una squadra che sembra essere in un momento critico, con sconfitte inaspettate e la mancanza di continuità. Tuttavia, la fede di Cannavaro nella squadra partenopea è inossidabile. Ha dichiarato, sono arrivate delle sconfitte inaspettate, però la squadra resta forte e competitiva, quindi sicuramente troveranno il modo di venirne fuori. Ma cosa pensa Cannavaro della posizione di mister Garcia? Il nostro ex campione del mondo ha riconosciuto che il subentrare ad un allenatore di successo come Luciano Spalletti non è mai un compito semplice. Tuttavia, ha sottolineato che il mister ha dimostrato il suo grande valore, vincendo il campionato francese e la Coppa di Francia. Cannavaro conosce l'importanza dell'esperienza in questo sport e la considera un fattore cruciale. Nonostante le difficoltà, resta fiducioso nella forza del Napoli e soprattutto dell'allenatore. Cannavaro crede che la squadra saprà superare questo momento complicato e trovare la strada per il successo. Questo messaggio è di grande speranza per i tifosi del Napoli, che possono contare sull'esperienza e la qualità del loro allenatore Rudy Garcia. È importante seguire da vicino gli sviluppi di questa situazione. Iscrivetevi al nostro canale per rimanere aggiornati su questa notizia e sulle ultime novità sportive. Il calcio italiano continua a regalarci emozioni e sorprese e noi saremo qui per raccontarvele. Alla prossima!